Pescara, Salvatore Aloi, Salvatore hai segnato il gol, buonasera, il gol in questo stadio che fino a qualche mese fa era il tuo stadio. Sì, forse buonasera intanto, forse era destino, magari due mesi fa ero qui, ho vissuto due anni bellissimi ad Avellino che ci hanno regalato gioia e ovviamente anche qualche dispiacere, però sono contento che ho fatto gol magari pure a pareggia del Pescara e sono contentissimo e felicissimo di aver fatto gol. Io con te vorrei affrontare un po' quello che è accaduto nei minuti iniziali di questa partita perché in occasione del rigore per il Giuliano non abbiamo capito molto dalla tribuna quello che è accaduto. A noi era sembrato che il fallo fosse stato commesso da Brosco e non da Milani. Che cosa vi ha detto l'arbitro nel momento in cui ha estratto il cartellino rosso e ha segnato il calcio di rigore al Giuliano? Niente, come avevo detto prima, l'arbitro ha individuato, mi sa che non l'aveva visto neanche lui che fosse il colpevo del rigore, però ha individuato Milani, l'ha buttato fuori, noi siamo andati a parlare magari dicendo che è stato un pochettino spalla contro spalla, ma la decisione dell'arbitro poi è stata incisiva e ha chiamato il rigore. Insomma, neanche l'assistente che era ben piazzato e poi intervenuto? Purtroppo magari in Serie C non si prendono questa grossa responsabilità di magari l'assistente di chiamare che non c'era il penalty, quindi purtroppo l'arbitro ci ha condannato. Oltre al rigore poi c'è stata l'espulsione, siete stati costretti a giocare gran parte di questa partita in dieci uomini, il problema è stato soprattutto quello, nonostante tutto siete poi riusciti a pareggiare, però giocare in dieci tutti questi minuti è stato pesante. Sì, è stato pesante, io ho provato a parlare con l'arbitro anche se non sono il capitano, però gli volevo spiegare, una volta che dai il rigore dai almeno il giallo, non ci condannare buttandoci fuori un giocatore, però lui ha detto no, è chiara occasione da gol, se do il rigore devo dare il rosso, va bene così, però si è stati dentro la partita, si è stati concentrati e quindi subito dopo abbiamo cercato il gol e l'abbiamo trovato. Comunque un episodio che ha fatto molto discutere, che ha stato delle perplessità, tra l'altro ci sono state altre proteste del Pescara sul finire del primo tempo, sulla battuta della punizione di Palmiero, ci sono stati un paio di tuoi compagni che sono caduti in aria, avete chiesto anche lì il calcio di rigore? Giustamente abbiamo chiesto il calcio di rigore perché effettivamente è calcio di rigore, però purtroppo l'arbitro non ci ha aiutato in questo fragente, magari nel proseguo del campionato ci daranno una mano anche loro. Torniamo a parlare allora di questa partita, Salvatore, un Pescara che poi nel secondo tempo, prima in 10 contro 11 e poi in 10 contro 10 ci ha provato, ci avete provato a vincere la partita, avete avuto due ghiotto occasioni con Vergani e con Cupone, non ci siete riusciti, però resta a mio avviso una prova positiva. Sì, sicuramente giocavamo sempre fuori casa contro un Giuliano che è un'ottima squadra per la categoria, sono solidi, quindi io conosco pure il mister, so come lavora, quindi alla fine ci abbiamo provato, noi ogni sabato proviamo per vincere, lavoriamo per questo, lavoriamo per portare i punti a casa, tre punti a casa, però vuol dire che doveva andare così e niente, pensiamo già a sabato. Una partita molto fisica quella di oggi con il Giuliano? Sì, sì, giustamente fisica, però nel momento in cui, come si è visto quando abbiamo cercato di andare subito in verticale e fraseggiare, l'abbiamo messo in grosse difficoltà. Per chiudere Salvatore, insomma stai prendendo piano piano piede in questa squadra, hai avuto un problema fisico in estate che ti ha creato dei problemi, qual è la tua crescita, la marcia di avvicinamento alla migliore condizione? Sì, purtroppo io quest'estate ho avuto una lesione al collaterale che mi ha causato quasi due mesi di stop e con lo staff giustamente lavoravo giorno per giorno per trovare la condizione migliore, quindi diciamo alla prima partita mi sono fatto trovare pronto e ringrazio il mister per l'opportunità. Ti aspettavi di giocare dall'inizio? In settimana qualcosina è stato provato, però la certezza non c'è mai, nel momento in cui ti chiama in causa il mister e devi cercare di rispondere presente. Comunque mi metto sempre a disposizione del gruppo e della squadra cercando di arrivare fino in fondo, magari centrando pure gli obiettivi. Salvatore, per chiudere io vorrei tornare a questa estate, a questa trattativa infinita tra il Pescara e l'Avellino, soprattutto tra te e l'Avellino, prima di arrivare a Pescara. Qual era il problema, cosa è successo per una trattativa che è durata settimana? Sì, anche prima della scorsa estate io già a gennaio dovevo venire a Pescara, c'è stata qualche voce. Comunque poi nel mercato di estivo purtroppo ho avuto, come succede nel calcio, un po' di tira e molla tra le società, tra calciatori, che poi alla fine un pochettino ci siamo venuti incontro tutti. Volevi però fortemente il Pescara? Sì, ho rifiutato tantissime altre piazze perché mi avevano parlato anche i miei ex compagni Scognamiglio, Maniero, Pettinari, non sto qui ad elencarli tutti, comunque mi avevano parlato che Pescara giustamente la storia parla da sé, quindi non ho esitato subito ad accettare la proposta. Per chiudere Salvatore, sabato c'è l'audace Cerignola, questo punto un po' frena la rincorsa alle primissime posizioni, però insomma, lo dicevo prima in sede di commento, non è un punto assolutamente da buttare. No, assolutamente, il nostro obiettivo è stare attaccati al treno, quello che spinge verso l'alto e poi sabato dopo sabato cercare di portare i tre punti a casa e ragioniamo partita dopo partita, poi a maggio tireremo le somme e vedremo dove siamo arrivati e vedremo quello che possiamo fare. L'ultimissima, quella di oggi, probabilmente è stata la partita cartolina di tante altre partite che il Pescara affronterà in trasferta, ci sarà molto da soffrire sul piano ambientale, sul piano fisico, troverete squadre che la metteranno sul piano soprattutto dell'aggressione, aggressione sportiva in tempo. Certo, ovviamente ormai come noi vediamo loro, loro vedono noi, magari queste squadre magari che un pochettino si devono salvare, un pochettino si chiudono, quindi fai fatica, devi avere pazienza, devi stare lucido e quando l'occasione è giusta spingere l'acceleratore e andare a fargli male questo.